Andiamo, forza! Vediamo che fa questo giocattolo. Agente Markham, sono diretti a sud sulla 95esima. Sì, ricevuto. Stanno scappando, che sorpresa. Seguimi, fammi vedere che sai fare. Perché devo mangiare la tua poldere? Spiritus! Ah sì, ti credi il massimo, Rob? Ah sì, ti credi. Ah ah, wow! Vediamo se sei ancora capace, Brian! Ok, Rob, ho una cosetta per te. Sta a vedere, fratello. Cazzo! Rob, come ti trovi così? Ti piace? Spancone! È la scuola guida Brian O'Connor solo per te, baby! Grazie di uno schizzato di un bianco! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Bomba! Vieni via dalla strada! Questa è roba forte, cazzo. Cosa abbiamo? Molto bene, mostrami il compagno. Macchine, dove sono le macchine? Solo barche, dove sono le macchine? Mi servono le macchine, dove sono? Ah! Tra i sedili, guarda tra i sedili. Cosa? Dlin, dlin! Puoi rimetterti la camicia. Invidioso.